Siamo contentissimi, ringrazio della fiducia che ci hanno concesso i cittadini di Cremeno. Speriamo di onorarli, di soddisfare tutte le richieste e le promesse che abbiamo fatto in campagna elettorale. Grazie a tutti, più che dire che grazie, e speriamo di portare avanti il programma che abbiamo illustrato in campagna elettorale. La priorità era il metano maggio, la revisione del PGT e la realizzazione di Marciapiede a Cremeno, come è stato illustrato nell'ultima seduta della campagna elettorale, qua proprio in occasione in Comunicare a Cremeno.